Io sono altrimenti, sono un diverso mondo di avere argomenti e ti spiego sempre a fare altri ragionamenti alle volte suggerisco che ti cambiano menti po 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 Esigenti, esigenti e sono altrimenti tu mi cerchi sempre a prendere i cambiamenti e naturalmente arrivo ad aprire la mente Se, se tu mi vuoi sono un romano. Sono altrimenti.